Buona domenica, ben svegliati, ben svegliato, ben svegliato, ben svegliato già da un po'. Eh, noi ormai... A me sono un concesso che abbiamo valmito, perché insomma... Eh sì, sono attimi conciliati. Voi chissà se avete già preso un caffè, il primo caffè della giornata. Intanto cominciamo con lo gettare uno sguardo alla foto che abbiamo scelto questa mattina per il nero per cento e invece si riduce poi dopo i 40 anni fino a raggiungere il 50% in età avanzata. E adesso cominciamo, ah beh, è una di quelle serie pesanti, adatta così, se di nuovo fin... E il buongiorno Italia, di oggi ci parla di musica, ancora di violini. Noi andiamo a scoprire come si fa, come si costruisce, come nasce questo strumento eccezionale. Massimo Proietto. E questo è veramente il Made in Italy che ci invidia a tutto il mondo. Noi ringraziamo Massimo Proietto. La rete, noi prima però sentivamo la Bale a parlare di denari. Professore Sandro Ungri, lei... ...effettive, che possono essere prevenute... Sì, io volevo dire che forse non è stato sottolineato e da lì quindi nella mia zona non ci sono punti... Eh beh, la non volontà... ...sulla nave, sì, certamente. Avevamo sentito il grosso tonfo e poi a Sabine... ...siano ancora dentro la nave. ...segnata e... Lei oggi è qua e vi soccorrono. Come sono andate le cose? Ma il piano intanto sì, sicuramente stanno incrociando i dati. E dove è tornata a casa sua questa notte? Ha dormito? Sposo o mi lascio? Eh? Renzo Bianchi ci parla del sesso e la sua importanza in un rapporto. Non è del caffè amaro però, eh? Beh, non è un dolce. Non è un dolce. La te... non è sopravvalutata. La dottoressa voleva... Infatti la cosa che dicevo prima è che non era in contrasto con quello che... Il soggetto con il verbo... Qua si definiscono con il rigidire e scheletrire la lingua. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Giovanni, chiamo da Carzoli in Abruzzo. Buona domenica a tutti. Eh? Professore... Qualcuno abbastanza raro ma tipicamente germinare come sia cambiata la posagalli. Enorme. Ma Joella credo che sia stata la cosa buona. Anch'io sono d'accordo su Simona perché in realtà di fatto non è solo un giugno. Come no? Allora? Dobbiamo ricordare una cosa? Un coda? No! Potete consultare il sito www.abbonamenti.rai.it Abbiamo anche una pagina televideo, la 380 o numero di telefono 199 123 000. Grazie a tutti voi telespettatori. Si può fare anche con i...